Ciao ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di... Il film di cui parleremo oggi è Zombie Heavers. Come ho detto nello scorso episodio dell'horror month, ovvero quello sulla casa delle bambole, film che vi consiglio tantissimo e vi consiglio anche di vedere il video, tanto lo trovate qui nelle schede assieme agli altri di questo format, Zombie Heavers non è sicuramente uno degli horror più belli mai fatti e naturalmente, potete capire anche dalla premessa, è uno di quegli horror abbastanza trash. Forse è giusto un po' migliore di Slacks, l'altro film trash di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, ma vediamo perché fra poco. Alcuni adolescenti in cerca di svago trascorrono un fine settimana in una casetta in riva a un fiume, ma vengono attaccati da improbabili castori zombie contaminati da una sostanza tossica. Questa è in breve la trama che si può trovare su Google. Il film del 2014 lo potete trovare tutti su Prime Video, sempre nella sezione di Midnight Factory, praticamente sono tutti lì film di cui abbiamo parlato in questo format, a parte l'ultimo video che arriverà il 31 di ottobre e che sarà un film proveniente solo da Prime Video, non dalla categoria Midnight Factory. Fra poco vi svelerò di quale film sto parlando. Al contrario di Slacks, a cui ho dedicato già un video dell'horror month, questo film è trash e rimane tale dall'inizio alla fine. E naturalmente sto parlando di un trash voluto, non è sicuramente un errore della produzione. Ripeto, dalla premessa dei castori zombie che ammazzano gente, possiamo prevedere già di che film si tratta. Ma un pregio sicuramente è che non si prende sul serio neanche una volta, al contrario di Slacks che alla fine vuole fare un po' il film moralista. Se non sapete di cosa io stio parlando, Slacks ha come protagonista dei jeans assassini. Ripeto, il video è nella playlist dell'horror month. Zombie Ivers inizia con l'origin story, vera e propria dei castori zombie, quindi c'è il problema con le sostanze tossiche di cui ho già parlato nella trama ed è naturalmente una delle cose più stupide possibili. Ovviamente penso ci sia un budget davvero risicato alla base di questo film perché fin dall'inizio ci sono delle scene un po' splatter, non dico altro, in realtà all'inizio ce n'è solo una scena così violenta e beh, la realizzazione è davvero davvero scarsa. Il sangue che sgorga sembra essere disegnato sullo schermo da qualche dilettante su Paint. Però nonostante tutto, prendendo questo film nel modo giusto, quindi capendo di cosa si tratta ed entrando nel vero mood, l'inizio è anche simpatico. Vi consiglio vivamente di skippare l'intro perché è lunghissima, non porta assolutamente nulla, ci sono solo i nomi che compagnono e delle grafiche anche realizzate abbastanza bene, ma perché sono in 2D alla fine, quindi credo che sia una delle cose migliori di questo film, sinceramente. proprio perché in 2D è molto meno costose di tutto il resto, ma l'introduzione schippatela davvero. Ci presentano le protagoniste, una più antipatica dell'altra, quindi in pieno stile horror e horror trash in questo caso. Mi sono risultate antipatiche tutte e tre per motivi diversi, quindi non perché sono tutte e tre caratterizzate nello stesso modo, anzi questa è una cosa interessante, visto che solitamente qui le protagoniste donne sono tutte in un unico modo, invece qui sono caratterizzate in modo diverso. Però vabbè, stanno comunque sulle palle. Il bello di questo film è riuscire a capire quale di queste tre ragazze sarà la Final Girl, e vi posso dire che non sono riuscito a capirlo. Fatto sta che dopo qualche siparietto abbastanza cringe tra le ragazze e altri personaggi terziari che non compariranno mai, tra cui Bob Vance, Vance e Refrigerazioni, chi ha guardato The Office capirà, dopo tutto questo che non porta assolutamente nulla al film, se non un odio veramente verso questi personaggi, questi personaggi protagonisti, si entra a tutti gli effetti nella vicenda e nell'horror, ovviamente sempre controllando quel tipo di horror. Ci vengono presentati altri personaggi che accompagneranno queste ragazze, e quindi si aggiungono vittime per questi castori zombie, infatti devo ammettere che sembra abbastanza strano che questo film, sia per l'ambientazione ma anche per il fatto che i protagonisti siano questo tipo di ragazzi, che fanno certe cose per tutta la durata del film, mi ha ricordato tantissimo il primo venerdì 13. Per alcuni potrei star bestemmiando, per me sinceramente che è venerdì 13, l'ho riscoperto solamente qualche anno fa, i due film non sono così tanto lontani l'uno dall'altro. Avendo poi poco budget, naturalmente il film ha fatto molto conto sugli effetti speciali, più che quelli visivi, quindi abbiamo poca CGI, per quanto CGI possiamo chiamarla, e molto più roba tecnica a tutti gli effetti, quindi a volte per la maggior parte in realtà il sangue, le viscere, queste cose sono realizzate realmente lì sul set, e non sono realizzate nemmeno poi così tanto male, devo ammettere, per essere questo genere di produzione, e con mia grande sorpresa ci sono delle citazioni davvero cringe in realtà, allo squalo, con tanto di effetto vertigo su un certo personaggio, con tanto di visuale alla Jaws, in questo caso del castoro, sono dettagli che per chi riesce a riconoscerli rendono la visione più divertente, più leggera, perché comunque non vai mica a pensare che in un film di questo genere fanno riferimento allo squalo, uno dei maggiori capolavori del cinema mondiale, e gli riferimenti allo squalo non sono neanche gli ultimi riferimenti che fanno al cinema più famoso. Ma non voglio spoilerare altro, magari fatemi sapere con un commento qui sotto quali riferimenti avete trovato se avete visto il film. Io devo ammettere che, al contrario di Slacks, qui mi sono divertito, mi ha intrattenuto dura poco il film alla fine, quindi non è nemmeno così tanto pesante, sì, ripeto, i personaggi sono odiosi, ma per la maggior parte sono stati fatti apposta così, perché in questo genere di film i personaggi devono essere odiosi, assolutamente, perché altrimenti non ti divertiresti con le loro morti, e qui l'obiettivo è farti divertire con le morti dei personaggi. E un'altra cosa che non avrei mai pensato arriva proprio a metà del film, dopo una certa presentazione con i castori zombie che fanno casino, non mi sarei mai aspettato che succedesse una certa cosa, poi magari ne parliamo nella parte spoiler, perché non voglio rivelarvela. Ed è una cosa che mi ha divertito tantissimo, soprattutto per altri effetti tecnici usati, ma è sempre tutto tremendamente cringe, e questo lo rende ancora meglio. La cosa divertente è che ci sono diversi plot twist che non ti saresti mai immaginato, sia per le relazioni tra i personaggi, ma anche per proprio quello che succede, come ho detto, ad un certo punto del film. Zombie Ivers finisce come multi-horror, soprattutto di una certa epoca, quindi con la Final Girl, con l'unica ragazza che riesce a sopravvivere su un certo gruppo di personaggi, ma in questo caso si chiude un cerchio che inizia dai primi minuti del film. E vi posso dire che questa scena l'avevo prevista giusto qualche minuto prima, arrivati in una certa ambientazione, quindi per me non è stata chissà che grande sorpresa inaspettata, però comunque mi ha divertito. Tirando le somme, Zombie Ivers è uno dei peggiori horror mai fatti, ma vuole esserlo, e quindi, vedendola sotto questo punto di vista, per me è un horror abbastanza divertente, è un film abbastanza divertente, perché poi in realtà di horror c'è veramente poco, è per lo più uno splatter con dei tecnicismi abbastanza scadenti, ma sinceramente da dei castori zombie che ammazzano dei ragazzi io mi aspettavo questo, e anche di meno in realtà, ci sono delle cose che non mi sarei mai aspettato, ripeto. Io veramente vi consiglio di vedere Zombie Ivers se avete tempo da perdere assolutamente, se volete schifarvi di una qualità pessima, o in generale di un film pessimo, in pratica per tutto il video ho detto quasi solo cose negative, però sono cose negative che mi sono piaciute, è una delle primissime volte su questo canale. Ma ragazzi, prima di passare alla parte spoiler, a una piccola parte spoiler, non voglio dire tantissimo, vi dico il film di cui parleremo la prossima volta. Il 31 di ottobre, quindi ultimo video dell'horror month, ad Halloween, arriverà la recensione di Better Watch Out, o Scary Christmas. In poche parole, questo è un mamma ho perso l'aereo disfunzionale, totalmente. Vi consiglio di recuperarlo, tanto lo trovate già su Prime Video, nella sezione principale di Prime Video, nessun catalogo in più da acquistare, come per il resto dei film dell'horror month, così la prossima settimana ne possiamo parlare tranquillamente. Ma adesso parliamo delle cose aggiuntive riguardo Zombie Ivers, di cui non volevo parlare nella parte senza spoiler, perché entrerò nei dettagli. Quindi se non avete visto il film, uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa, voglio parlare della svolta del film, che arriva ad un certo punto della visione, forse proprio a metà. Scopriamo che questi castori zombie non si fermano ad essere solo dei castori in putrefazione. Sono a tutti gli effetti zombie mischiati a vampiri, come quelli che abbiamo visto in tantissimi altri prodotti. Quindi con un morso alle vittime, trasformano quest'ultime in zombie, ma in questo caso, essendo castori zombie, le vittime diventano dei castori umanoidi zombie, tutte ripetizioni che servono in realtà, perché in pratica questo è il risultato finale. La trasformazione è una delle cose peggiori di questo film, fa veramente schifo, ma mi è piaciuta tantissimo. Faccio capire meglio, fa schifo perché è effettivamente realizzata bene, quindi è una delle poche cose di questo film realizzate bene, ed è proprio per questo che fa schifo. Poi vabbè, riferimenti ad Halloween, il modo di alzarsi di Michael Myers, tra l'altro dopo questo video registrerò la recensione di Halloween Hens, ne parliamo poi fra qualche giorno, o magari già domani, non lo so. Tornando a Zombievers, se già il film era pazzo nella prima parte, dopo che succede questa cosa, quindi le persone morse diventano dei castori umanoi di zombie, il tutto diventa ancora più folle, ed è da questo punto che ovviamente il mio divertimento è salito. Inaspettatamente la Final Girl qui non è la ragazza vergine, quella più pulita, ma forse proprio il contrario, ed è anche per questo che in realtà non mi sarei aspettato questa conclusione. Però appena l'ho vista su una certa strada che ho riconosciuto subito, ho detto, ok, qui non ci sarà una Final Girl. E proprio due secondi dopo uscita questa frase dalla mia bocca, arrivano gli stessi personaggi a inizio film che hanno ucciso il Dino e che hanno fatto partire in realtà tutta sta roba degli zombie, e la investono. Ragazzi, davvero, questa è la parte spoiler più corta di questi video dell'horror month, non avevo tantissimo da dire perché questo film non è che abbia così tanto di cui parlare se non trash, 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 ma ripeto, vi consiglio di vederlo. Anche se alla fine siete rimasti fino alla fine del video senza aver visto il film, vi consiglio di recuperarlo perché ci sono alcune chicche interessanti, non ho detto a quali altri riferimenti cinematografici ci sono perché è un po' una caccia al tesoro e non mi sarei aspettato di vederne così tanti. E niente, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, vi ricordo che la prossima settimana parleremo di Better Watch Out oppure Scary Christmas, che dir si voglia, questi sono i due titoli del film. E ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao! Ciao!